Gesù era già morto e risorto ma ha fatto un ultimo miracolo dei 153 grossi pesci della seconda pesca miracolosa fatta pescare a Pietro quando era tornato all'antico a pescare pesci reali dopo che era stato pescatore di uomini ebbene questi 153 grossi pesci si riferiscono a quanto è accaduto nelle sei apparizioni a Fatima i giorni dal 13 maggio al 13 ottobre 17 sono esattamente 153 però furono solo sei apparizioni laddove l'intera azione di Dio opera sempre in sette giorni sicché questo 13 deve ancora combinarsi all'ultimo 7 moltiplicandosi e in anni perché gli anni sono l'unità del tempo della terra allora 7 per 13 determina 91 anni che aggiunti dall'ottobre 13 del 17 portano all'ottobre 13 del 2008 la settima apparizione ebbene questo giorno dista esattamente 153 decine di giorni quindi sono dei pesci super perché sono in decine di giorni sono pesci divini dalla fine del dicembre 21 2012 del calendario Maya Grazie a tutti Grazie a tutti